Noce loca, luna piena, mi baila conmigo, hasta la mañana, esto es un ritmo, un ciclo latino, me vuelve loco, hasta la luna. Noce loca, luna piena, mi baila conmigo, hasta la mañana, esto es un ritmo, un ciclo latino, me vuelve loco, hasta la luna. Benvenuti carissimi amici ad un altro appuntamento dedicato al mondo del ballo, quello che ci piace tantissimo. Bentornati a prossima fermata ballo. Anche oggi tanti saranno i video che vedremo, che ci faranno ballare e che ci faranno divertire, partendo ovviamente dal ballo sociale fino alla danza sportiva, passando dal country, perché tante sono le scuole che ci hanno mandato i loro video per condividere insieme la loro grande passione per il ballo e per il divertimento che esso comporta. Prima di iniziare però doverosamente i nostri riferimenti, questo è il nostro numero di telefono al quale potete mandare i vostri auguri e saluti. Li vedrete scorrere nella barra qui sotto, come è il numero di telefono al quale potete mandarci un messaggino per ricevere a casa vostra gratuitamente le nostre puntate sul vostro cellulare, su whatsapp, affinché le abbiate a disposizione sempre, le possate guardare e riguardare quante volte vorrete e magari condividerle anche con gli amici. E di questo ringrazio la nostra amica Lidia di Piacenza che davvero quando le riceve le distribuisce a tutti gli amici e parenti dal nord al sud vicini di casa. È una cosa meravigliosa, come dico sempre, perché chi condivide musica condivide vita. E so che molti di voi sono d'accordo con me dai messaggi che mi giungono. Sempre questo è il numero di telefono al quale potete telefonare per ricevere a casa vostra il nostro DVD, il DVD del corso di ballo della maestra Cristina Vezzani a soli 12 euro compreso spese di spedizione. Quindi questo è il nostro recapito. Per avere tutte le informazioni sulla nostra programmazione e sul nostro mondo, vi ricordo che quest'anno facciamo 15 anni di attività dedicata al mondo del ballo e della musica, questo è il nostro sito ufficiale. C'è anche la cartina dell'Italia sulla quale trovate la nostra programmazione e quindi potrete vedere se nella vostra regione c'è la copertura di un'emittente televisiva, potete sintonizzarvi su quest'emittente. Se abitate in una regione che non è coperta da alcuna emittente televisiva, potete seguirci in diretta ogni domenica alle 12.30 grazie al nostro canale YouTube. Iscrivetevi e così vi arriverà un messaggino mezz'ora prima dell'inizio della puntata. E poi dentro il nostro canale YouTube c'è un mondo di video da guardare e da condividere con gli amici. E questi erano i nostri riferimenti doverosissimi. Saluto tutti gli amici che continuano a scrivermi con così tanto affetto e ringrazio perché scrivono anche sotto la nostra puntata sul canale YouTube. La cosa bella è che questo dà l'opportunità di salutarsi anche gli uni con gli altri. E devo ricordare a due amici carissimi, Rita Dabreno della Valcamonica e Gianfranco di Como, l'amico del Giacuaro, di rispondere alla vostra amica Giudice Zenatico che vi scrive in continuazione, vi manda i suoi saluti ma ancora non ha ricevuto risposta. Quindi approfittatene, rispondete sul messaggio di Gio sul nostro canale YouTube perché prossima fermata ballo è anche un modo per stare insieme, per conoscersi e per condividere il ballo e l'amore per la musica. Partiamo col primo videoclip, allora andiamo con un brano che a me piace in modo particolare perché ho contribuito alla sua realizzazione. Saluto i maestri Paolo Domeniconi e Daniele Aldrovandi, gli altri autori di questo brano e ovviamente un ringraziamento alla Scuola Oneidos perché su questo brano nostro ha realizzato questa simpaticissima coreografia che devo dire è facilissima da apprendere. Quindi tutti in piedi, pronti per ballare? Perfetto perché adesso ci balliamo tutti insieme, bailarina! Buon ballo a tutti! Me gusta la bailarina, me gusta como camina, me gusta su movimento, lo más del pelo y lo que fascina. Tiene loco a todo el mundo, el abismo, empezzando por mi, me tiene así de loco. Mira que linda, como menea su cinturita, tiene loca la batea, mira como la menea. Mira que linda, como menea la cinturita, mira que linda, mira que linda, mira que linda, como menea la cinturita. E ora salta, venga menea la cinturita, i bambini, come la cinturita, guarda la bambini, come la cinturita. E ora salta, e ora salta, e ora salta Mira che linda come menea, su cinturita tiene loca la batea Mira come la menea, mira che linda come menea, la cinturita E ora salta, venga menea, dale mami ponte buena E ora salta, venga menea, dale mami ponte buena E ora salta, e ora salta, e ora salta E ora salta, e ora salta, e ora salta E ora salta, brinca menea, dale mami ponte buona E ora salta, brinca menea, dale mami ponte buona E ora salta, brinca menea, dale mami ponte buona E ora salta, brinca menea, dale mami ponte buona Ballato bailarina? Beh già il nome è evocativo ed è invitante al ballo Poi è una musica davvero simpaticissima e quindi valeva la pena di ballarlo insieme alla scuola Juanidos di Faenza in provincia di Ravenna Saluto Michele e Roberto, i maestri e vi ringrazio ancora per questa simpatica coreografia Se volete riascoltare il brano è uno dei miei che trovate su Spotify oppure anche su YouTube Vedrete che c'è la versione questa dove c'è il ballo di gruppo e c'è anche la versione dove di fianco canto io Per cui buon divertimento e ovviamente aspetto i vostri commenti su questo video Andiamo avanti, proseguiamo e andiamo in country Perché so che a molti di voi piace, allora molti mi hanno detto che hanno trovato con estrema facilità Il corso di country line dance della nostra maestra Marilu Teseo sul nostro canale YouTube Canale YouTube che è questo che vedete dove all'interno c'è tutto il nostro mondo Ci sono circa 1600 video dedicati alla musica e al ballo Ma per facilitarvi nella ricerca di tutti quelli che sono i video dedicati al mondo del country Vedrete che su questo canale ci sono tre icone In una c'è scritto country live tv Se entrate lì è sempre un nostro canale e in quel canale abbiamo raggruppato tutti i video dedicati al country Video che abbiamo realizzato noi durante tutti questi anni del nostro pellegrinaggio in giro per l'Italia e non solo E quindi lì trovate le puntate andate in onda dedicate al mondo country Le interviste ai coreografi, ai DJ, ai maestri, alle scuole di ballo, agli appassionati E trovate appunto il corso primi passi di country line dance Primi passi direi tutto il corso di primo livello Perché parte dal passo base, lo step, fino ad arrivare alle prime coreografie Quelle più semplici che gli esperti di voi conosceranno perfettamente Quindi vi aspetto sul nostro canale YouTube Iscrivetevi così non perdete nulla Ed ora, visto che abbiamo parlato della maestra Marilu Teseo di Italian Country Family Un abbraccio anche al fantastico Loris DJ Ci gustiamo questa bellissima coreografia Realizzata appunto dalla maestra Marilu in occasione di un evento di qualche tempo fa La musica è estremamente suggestiva e anche la coreografia Secondo me si impara facilmente Quindi anche qui in piedi e si balla Buon ballo a tutti Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! And this is my way, my friend, this is all over my mind When I think that is all, I don't wanna anymore There is nothing so important in my life Then I look out to the sky, beside all me, everything is right This is all I want for me, for my very lonely heart Feel my soul smiling to my eyes This is my way, my friend, this is all over my mind Feel my heart beating with you tight This is my way, my friend, this is all over my mind This is all over my mind Oh, devo dire che queste puntate mi piacciono sempre di più perché dai vostri messaggi siete molto attivi e seguite i vari balli e poi mi mandate anche i commenti se è stato complicato, se è stato semplice per voi Mi fa piacere perché scopro che alcuni amici che all'inizio avevano difficoltà a seguire alcuni passi e adesso li ripropongono con estrema facilità Questo vuol dire che siete diventati più bravi non solo ad apprendere i passi ma ripeterli velocemente perché il ballo è anche questo, è anche ginnastica, è memoria Il ballo è inutile, fa bene, bisognerebbe farlo un po' ogni giorno tutti e staremo sicuramente meglio Ed ora andiamo dalla nostra maestra Cristina Vezzani il gruppo Balliamo con Cristina che ci propone questo simpaticissimo ciaccia è un ciaccia standard, ovviamente coreografato da lei Perché sono importanti queste coreografie che ci propone la nostra maestra Cristina Vezzani? Perché se avete notato, lei crea coreografie su tutte le musiche che solitamente si ascoltano quando si va a ballare in una sala da ballo Sono importanti perché? Perché se non avete il partner per quella sera e parte un ciaccia, un mambo, una rumba, una cumbia voi vi potete mettere in un angolo e ballarla tranquillamente seguendo le coreografie della nostra maestra Cristina Vezzani divertendovi anche se non avete il partner Pertanto vi ricordo che se volete a casa vostra il corso di ballo della maestra Cristina Vezzani non dovete fare altro che telefonarci vi arriverà a casa vostra solo 12 euro compreso spese di spedizione Ci gustiamo questo ciaccia? Buon ballo a tutti! 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 originante, storico, ma credo che la sua particolarità, il fatto che abbia due passi lenti e quei tre passettini centrali velocissimi rispetto agli altri due, che sia quella particolarità che attira tutti i ballerini, ad apprenderlo bene per potersi poi esibire in pista. Grazie di nuovo alla nostra maestra Cristina Vezzani, gruppo Balliamo con Cristina. Ed ora parliamo di balli di gruppo. Non abbiamo mai parlato, ve li propongo sempre, però rispondo a tanti amici che mi hanno chiesto se ci sono delle regole ben specifiche per realizzare un ballo di gruppo, se bisogna seguire degli schemi o si è liberi. In realtà, cari amici, parlando con tantissimi maestri, quelli che ho avuto l'opportunità di incontrare in questi 15 anni di attività, la risposta è stata bene o male sempre la stessa, nel senso che il ballo di gruppo parte principalmente dalla musica, dalla canzone, che deve particolarmente colpire il coreografo o maestro di ballo. E qui, ultimamente, siamo abituati da diversi anni ad aspettare il famoso tormentone, la canzone che è in voga, che si sente sempre in radio, che si sente un po' dappertutto e che quindi sulla quale è più facile realizzare una coreografia perché sarà sicuramente ballata. Ma non è sempre detto, perché parlando con dei maestri mi hanno riferito che il brano li deve proprio colpire personalmente, per cui se anche è un tormentone ma non li ha presi in modo particolare, sopra loro non realizzano alcuna coreografia, ma scelgono un altro brano. Mi diceva la maggior parte dei maestri che nel momento in cui un brano li colpisce particolarmente, mentre lo ascoltano, hanno già in mente il passo da fare in quel punto. Quindi alla fine la coreografia nasce in modo automatico. Ovviamente questo dipende anche dal tipo di difficoltà che il maestro vuole adottare. Mi spiego meglio. Ogni maestro crea ovviamente la coreografia in base ai propri allievi, allievi dei propri corsi, per cui se sa che ha un gruppo di allievi di corso base cercherà di fare una coreografia con passi semplici che possano ballare tutti. Se ha un corso intermedio o avanzato indubbiamente il coreografo o maestro inserirà all'interno della coreografia dei passi e delle evoluzioni un po' più complicate. Le due differenze. Se una coreografia è realizzata con passi semplici sicuramente la balleranno tutti, da grandi ai piccini, perché sarà facilmente intuibile, memorizzabile e quindi facile poi dopo da ripetere. E questo può essere un vanto per il maestro perché la coreografia viene poi ballata da tantissime persone tanto che diventa virale. Ma non è sempre detto perché alle volte diventano virali coreografie molto più complesse. Perché? Perché magari il ballerino che non è alle prime armi ma sta facendo l'intermedio o l'avanzato non si accontenta di correre in pista appena sente la musica per ripetere una coreografia di passi base semplice, ma ama provare se stesso in diverse evoluzioni. Ecco perché i maestri inseriscono particolari movimenti, giri a destra e a sinistra, cambi di direzione ed evoluzione, perché questo è quello che poi invoglia il ballerino un po' più esperto a imparare la coreografia e a buttarsi in pista per interpretarla al meglio. Riassumendo, non c'è un vero e proprio decalogo per la realizzazione dei balli di gruppo, l'importante è il brano musicale, quello che deve innescare la vostra creatività, la vostra vena artistica nella realizzazione di una coreografia divertente da condividere con i vostri amici e non solo. Ed ora ovviamente vi propongo un ballo di gruppo nuovo, ma non vi presento personalmente la scuola perché do la parola ad un simpatico amico che ho conosciuto da poco, che sicuramente è molto più bravo di me nel raccontare di sé e della sua realtà. Pertanto ora do la parola ad Alfio Ivan Germana dei Trinity Dance. Buon ballo a tutti! Salve a tutti cari telespettatori del programma televisivo condotto dalla mia carissima amica e saluto tantissimo iniziale a Tazzola. Prossima fermata a ballo, siamo oggi qui con la mia scuola di ballo che vedete alle spalle, a voi la Trinity Dance! La Trinity Dance nasce a Catania da una mia idea, ovviamente una scuola prettamente delle discipline di danze standard, liscio, ballo da sala, danze latino-americane, danze caribiche e come vedete anche nella line dance, sicuramente detta ballo di gruppo. Siamo oggi qui per portarvi una coreografia dal titolo La Noia, della famosissima Angelina Mangu. Coreografia fatta dal maestro Alfio Ivan Germana sottoscritto. A voi telespettatori La Noia! Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa, io l'ho indossa tutta alta sul collo, la mia collana non ha perle di saggezza, a me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi, fa snodare piano piano con le tappe, eppure sta una bosca guarda zero tramite, quasi quasi cambio di nuovo città, che a stare fermo a me mi viene, a me mi viene la noia, la noia, la noia, la noia. Muoio senza morire, in questi giorni usati, vivo senza soffrire, non c'è la croce più grande, non ci resta che ridere, in queste notti bruciate, una corona di spine sarà il tresco per la mia festa. Tanta gente nelle cose vede il male, viene voglia di scappare come iniziano a parlare, e vorrei dirgli che sto bene ma poi mi guardano male, allora dico che è difficile campare, business parli di business, intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti, princess si chiama princess, allora adesso smettila di lavare i piatti. Muoio senza morire, in questi giorni usati, vivo senza soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere, in queste notti bruciate, una corona di spine, sarà il tresco per la mia festa. Allora scrivi canzoni, si le canzoni d'amore, e non ti voglio annoiare, ma qualcuno le deve cantare. Cumbia, ballo la cumbia, se rischio di inciampare almeno fermo la noia, quindi faccio una festa, faccio una festa, perché è l'unico modo per fermare, per fermare, per fermare, la noia, la noia, la noia. Muoio perché morire, rendo i giorni più umani, vivo perché soffrire, fa le gioie più grandi, non ci resta che ridere, in queste notti bruciate, una corona di spine, sarà il tresco per la mia festa. Un grazie davvero di cuore ad Alfio, Ivan, Germana e Trinity Dance per la loro passione nel regalarci questa nuovissima coreografia appunto del maestro Alfio. Speriamo di avere presto altri vostri video, un grazie anche per la simpatica presentazione, un caro abbraccio a tutti gli amici dei Trinity Dance che erano presenti all'interno del videoclip. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, anche oggi direi pina di tante emozionanti avventure, e vi ricordo anche di iscrivervi al nostro canale YouTube sul quale collegarvi ogni domenica alle 12.30 per condividere insieme la nuova puntata. E io vi auguro una settimana meravigliosa, l'insegna come sempre della musica e del ballo. Vi abbraccio tutti quanti siete al prossimo appuntamento. Ciao Noce loca, luna, piena, baila conmigo, hasta la mañana, esto es un ritmo, ciclo, latino, nevo e veloco, hasta la luna. Noce loca, luna, piena, baila conmigo, hasta la mañana, esto es un ritmo, ciclo, latino, nevo e veloco, Hasta la luna.